E nel 1986 invece c'era un altro gruppo, i Mattia Bazzar, alla voce Antonella Ruggiero. Ti sento, sulla fiducia. E nel 2020 invece c'era un'altra voce Antonella Ruggiero. E nel 2020 invece c'era un'altra voce Antonella Ruggiero. E nel 2020 invece c'era un'altra voce Antonella Ruggiero. Ruggiero, 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 Ruggiero. 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 Ruggiero, 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 Ruggiero. Ruggiero, Ruggiero, Ruggiero. Ruggiero, Ruggiero. Ruggiero, Ruggiero. Ruggiero, Ruggiero.